Sentitissimo derby pugliese, attenzione però, subito, vediamo questa circolazione pericolosa, attenzione, subito, il vantaggio, sono le due squadre sicuramente, attenzione, la grande, la possibile conclusione, così, pericoloso, in avanti. Un po' contrariato ai microfoni, sta continuando a gesticolare sulla panchina, continua a dire che, se vogliamo, se vogliamo, parole testuali, se vogliamo portare a casa questi punti, dobbiamo fare molta attenzione stasera, queste le sue parole, vediamo adesso come il Pudignano invece soffrirà di una punizione davvero interessante. Manzali calcia sporco, è pericoloso il suo tiro, vediamo, Manzali sulla barriera, riparte. Di inserirsi, ed è una cosa importante. Comunque interessante per il Pudignano, eccolo, il pareggio, però, a Dao, ancora, subito, pronto, per Ciuban, vediamo, conclusione diretta, e c'è Pudignano che prova a rendersi pericoloso, conclusione qui, da pure, Rodolfo, sul pallone, subito, deve tornare sui sui passi, servire per Eira, lunga, da dunque, a Bruno, conclusione, sulla destra, conclusione. Attenzione a Noro adesso, Noro, subito, con importanza clamorosa, Lion. Grazie. Grazie. Grazie.